ci siamo benvenuti alla nuova serie retro gaming questo è un gioco ps1 che giocavo molto spesso da bambino non è proprio dei migliori ma per iniziare la serie retro gaming con la ps1 penso che sia il migliore army man green rogue godiamoci il trailer non 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 No, no, no. No, no, no. They're out of commission for several weeks while their bodies recuperate. Proceed. Proceed. Grazie a tutti. Ok perfetto ci siamo sistemiamo un attimo le solite configurazioni Ok Perfetto ci siamo Ok Agent Cobra Blue reporting Transport is airborne Escorted by two vipers Ok Grazie a tutti Grazie a tutti A company Proceed to crash site and secure Omega Project Cargo B company Advance to sector G-49er and engage all enemy forces Without Sergeant Hawk and his blasted heroes The Green Army doesn't stand a chance Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Per il lungo trailer ma ci siamo, siamo pronti per partire e vediamo un po'. Allora, se mi ricordo bene i comandi... Allora... Un attimo eh... Ok... Ok lancio granate... Un bello di questo gioco è tipo che potevi distruggere tutto se mi ricordo, fa provare... Tipo questi alberi si rompevano, adesso non ho più la mira di un tempo... Magari... Ok... Perfetto... Ancora abbiamo le granate deboli... Come potete vedere fanno il fumo... Perfetto... Avanziamo... Perfetto... Ci buttiamo proprio all'assalto adesso... Proprio ignoranza... Oh aspetta, se mi ricordo queste rocce si potevano rompere... Vedete i recinti si rompono qua... Appunto... Madonna la che... La mira... Mamma che volo... Dobbiamo un morto catafratto male... Adesso l'aeroplano dà qualche trucco... Qualcosa... Mi sembra che le palme si possano distruggere... Posso anche andare solo di bombe... Bombe... Avanziamo... Questo non so cosa stava guardando... Questo non so cosa stava guardando... Perfetto... Avanziamo... Ok... Via così... Proprio guerriero... Stelt... Vai... Vai... Avanza... Avanza... Non me ne frega un cazzo di te esplodi... Guardate qui c'è un potenziamento... Arma a livello 2... Vedrete la differenza... Granata potenza a livello 2 signori... Adesso vedrete che esplosione... Buomo... Buomo... Adesso li faccio volar via... Ecco vedi... Questi recinti sono il top per provarle... Adesso è una granata... Facciamoci largo... Facciamoci largo... Adesso... Facciamoci veramente a strada... Facciamoci... 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 Questo non mi ricordo che fa... Forse sono tipo invincibile... Ah porca miseria... Se mo' riperdi i potenziamenti... Me ne sono accorto ora... Porca miseria... che pollo e adesso? una vita capirai hai bisogno di potenziamenti non posso andare anche in questa maniera potevo fare la granata a livello 3 mannaggia cannaggia scusa staglia intenziale dell'utero ma ha no ha no il fucile super il fucile è livello 2 non c'è Siamo tornati come prima Solo che potevo avere tutti i potenziamenti massimi Porca miseria Non sarebbe stato Alquanto male Ce la farò ugualmente E la miseria Quanti ne arrivano Morto per la seconda volta Come un pollo Bene La prima missione finisce qui Perfetto Salviamo Perfetto Io vi saluto qui Ci vediamo al prossimo livello Un saluto da Luma Ciao